I lavori per riqualificazione... La vicenda del trasporto disabili era stata portata anche dal sindaco di Nocera Superiore Cuofano all'attenzione del piano di zona S1 in diverse circostanze, già con il precedente coordinamento. Il primo cittadino ha espresso la sua soddisfazione. La regione Campania ha chiarito che la spesa per il trasporto deve rientrare nel costo complessivo ed abbiamo iniziato una battaglia affinché nel marasma burocratico ed istituzionale non fossero le famiglie a pagarne le conseguenze. C'è stata un'ordinanza emanata dal TAR che ha ritenuto di non emettere neanche un provvedimento sospensivo. Quindi questo che cosa significa da un punto di vista politico? Che ciò che sostenevamo, o meglio sostenevamo che il trasporto per diversamente abili era già pagato dalla regione ai centri di Unni e quindi non doveva essere gravato sulle famiglie era giusto ed è vero e l'ha riconosciuto l'ordinanza del TAR. Questo significa che i centri debbono farsi carico anche del trasporto per diversamente abili. E' per noi motivo di soddisfazione, vigileremo affinché tutto ciò oggi avvenga così come è stato previsto e ordinato dal TAR. Sicuramente oggi il trasporto deve riprendere e deve riprendere non gravando sulle famiglie.